Cari fratelli, guardiamo insieme a Gesù crocifisso, al suo cuore squarciato per noi. Iniziamo da lì, perché da lì è scaturito il dono che ci ha generato, da lì è stato fuso lo Spirito che rinnova. Da lì sentiamoci chiamati tutti e ciascuno a dare la vita. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia hanno versato sua vita. Così il Papa Francesco nella messa di apertura ha ricordato a tutti la ragione vera del sinodo speciale sull'Amazzonia. Non solo dunque l'emergenza ambientale, come troppo facilmente si va raccontando, ma l'emergenza umana, sociale, spirituale. E sì Massimiliano, in queste ultime ore, giornate che scandiscono la fine del sinodo speciale per l'Amazzonia, è chiaro che nessuno si può chiamare fuori, che l'Amazzonia riguarda tutti noi, che è ovunque. E dunque noi cercheremo di capire che cosa sta accadendo, che cosa verrà fuori da questo sinodo. Lo facciamo con gli ospiti che sono in studio, ve li presento subito. Innanzitutto, Sola Alessandra Smerilli, della congregazione delle figlie di Maria Usidatrice, economista all'Auxilio, un grande amica di Siamo Noi. Con Sola Alessandra cercheremo veramente di mettere dei punti fermi, di capire quali indicazioni importanti stanno uscendo da questo sinodo. Ben arrivato Domenico Gaudioso, studioso, esperto di cambiamenti climatici, ex dirigente dell'ISPRA, vale a dire dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Lui ha un ruolo significativo, è infatti uditore al sinodo, quindi ce lo racconterà da dentro. E grazie. E abbiamo anche una testimonianza davvero preziosa, davvero speciale, quindi un ringraziamento forte da parte di tutti noi. oggi è Pablo Fajardo, che ci racconta il suo impegno di contadino, di avvocato, accanto davvero agli ultimi, accanto nella difesa dei diritti, dei diritti calpestati dei contadini, degli indigeni, calpestati dalle multinazionali. Ben arrivato Pablo. E ben arrivato anche Gianni Del Bufalo, direttore generale Foxive, che ci spiegherà proprio l'impegno del socialismo cattolico in Amazzonia. Benvenuti tutti. Allora, Suora Alessandra, questo sinodo, su questo non ci sono dubbi, è dedicato all'Amazzonia, però riguarda tutti noi. Ci può spiegare ancora una volta perché? Allora, questo è un sinodo chiamato speciale proprio perché riguarda appunto un tema particolare, una regione particolare, quella dell'Amazzonia, ma io dico che è anche un sinodo universale proprio perché riguarda tutti noi, in che senso? Un po' è stato detto, l'Amazzonia siamo tutti noi, quello che lì si verifica, che vediamo in grande, nel piccolo anche di tante zone italiane, noi lo vediamo, questo incrocio tra mancato rispetto dell'ambiente, inquinamento, malattie, povertà, eccetera. Quindi tante Amazzonie sono in tutto il mondo. Dall'altra parte però ci riguarda perché quello che accade lì, e forse lo vedremo anche con la testimonianza, di quello che accade lì siamo responsabili anche noi. E quindi nessuno può dire io non centro nulla con questo sinodo, non centro nulla con quello che capita in Amazzonia. Stiamo comprendendo che qui parla la suora, ma parla anche l'economista, tutto si integra, tutto è integrato, come l'ha dato sì, suora Alessandra, però vale la pena ricordare a noi e a chi ci segue che si tratta di un sinodo, e che il sinodo non è un convegno, non è un'assemblea. Sicuramente, il sinodo non è un convegno, non è un'assemblea, è un'operazione di discernimento fatta insieme, come chiesa. Il cammino del sinodo solitamente inizia anni prima, si comincia cercando di capire quali sono le questioni, il cammino di ascolto di tutto quello che emerge si condensa in un instrumentum laboris, l'instrumentum laboris viene discusso, ampliato e modificato durante l'assemblea sinodale, che in questo caso dura tre settimane. Il sinodo non prende decisioni, durante questo discernimento si arriva a delle proposizioni che vengono poi offerte al Papa e alla Chiesa per come espressione di tutto il cammino fatto. A me piace pensare, come l'esperienza precedente da me vissuta nel sinodo dei giovani, che è raro che 300 persone rappresentanti, in questo caso di una grande zona del mondo, ma anche di altri continenti, possano prendersi il tempo per tre settimane per sviscerare le questioni, per poter discernere. Un sinodo funziona, io credo, se chi entra non esce dal sinodo così come è entrato. Cioè se è un'operazione... Magnifico! Ed è un cammino che comincia, che continua. E chissà se il nostro gaudioso uscirà come entrato, o magari migliorà, vedremo, perché partecipa al sinodo come uditore. Colgo l'occasione per chiederle questo. Insomma, il sinodo speciale per l'Amazzonia, quattro anni fa l'ha laudato sì, le chiedo se la colpisce questo impegno del Papa e del mondo cattolico in generale per un tema così delicato come quello dell'ambiente. Beh, è un impegno assolutamente coerente, che ha avuto una sua prima espressione nella laudato sì, ma tutto il percorso successivo è stato un percorso molto coerente e lo si vede anche dalle testimonianze che emergono nell'ambito di questo sinodo. Direi che poi l'insegnamento fondamentale della laudato sì, quello di un'ecologia integrale che consideri nello stesso tempo gli aspetti ambientali e gli aspetti sociali e umani, è un aspetto che non vale solamente per la Chiesa e per i cattolici, ma la vale per tutti gli uomini. In realtà i problemi ambientali, a livello a cui siamo, non si risolvono se non si coinvolgono anche tutti i cittadini nella loro risoluzione. Alla luce del bufalo di quello che ci sta dicendo Gaudioso, insomma questa domanda che viene insistentemente posta ai cattolici, con tutto quello di cui vi potete occupare, perché vi occupate dell'ambiente, già insomma sollecita una risposta. Sì, tanti cattolici si occupano dell'ambiente perché non sono alieni, quindi è l'ambiente dove viviamo. E poi siamo sollecitati proprio dalla laudato sì. Se questa è una casa comune, tutti dobbiamo farcene carico. Le questioni ambientali e non solo ambientali, prima è stato accennato al fatto che non è un ambiente solo naturale, è un ambiente dove vivono persone, dove si incrociano le storie delle culture, dove si incrociano le storie dei diritti. Un ambiente del genere riguarda per forza tutti gli abitanti della casa comune. Senza contare che poi quello che in tema di diritti calpestati accade lì, accade in milioni di altri luoghi del mondo. Sì, è proprio un modello. E allora a questo punto, Sra. Alessandra, le chiedo questo. Si può parlare oggi, forse l'espressione è un po' cacofonica, però di teologia dell'ecologia? Aiuto, qui io non sono un'esperta di teologia, ma il paradigma dell'ecologia integrale, che è quello che emerge dalla laudato sì, ma anche dal magistero precedente. Vuole essere un paradigma di un qualcosa che abbraccia tutto. Ecologia vuol dire relazioni. E quindi in questo c'è l'ambiente, c'è la convivenza tra le persone, c'è la custodia dell'altro, il rispetto dei diritti che sono calpestati. In tutto questo, la linea del tutto è connesso, non muovo un filo senza che tutta la rete non si smuova. Credo che sia il paradigma in cui vogliamo muoverci. Ecco, ci dice Sra. Alessandra, noi non siamo proprietari di niente, siamo custodi, custodi di quello che ci è stato consegnato, custodi anche delle persone. Abbiamo compreso che ogni ferita inferta alla Casa Comune ha anche una ricaduta immediata sulla nostra salute, naturalmente su quella del pianeta, dunque è il momento di coinvolgervi attraverso il nostro Simone. E allora partiamo subito con le domande di oggi. State seguendo i lavori sinodali. C'è un tema che vi ha particolarmente colpito? E cosa vi aspettate da questo sinodo? Insomma, dite la vostra sul tema di oggi. Vi lascio i nostri contatti, la nostra mail, siamo noi, chiocciolatv2000.it, il nostro numero WhatsApp, 348 3070 345, oppure chiamateci e lasciate un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 o semplicemente interagite sui nostri social. Vi aspettiamo. Molto molto bene, Simone. Allora, raccontiamo questa storia straordinaria dell'Avvocato Feiardo, ancora una volta ben arrivato qui a Siamo Noi. Le posso chiedere in apertura quando è arrivato nell'entroterra in Amazzonia? Lei è nato in Ecuador e quando è arrivato nell'entroterra dell'Amazzonia? Effettivamente, io nasi sulla costa dell'Equador e sono arrivato nell'Amazzonia equatoriale nell'87, in coincidenza allo stesso giorno che uccidevano Monsignor Alessandro Lavacca nella selva amazzonica equatoriana. Lei ha 14 anni in Amazzonia, inizia a lavorare. Che cosa faceva? In quel momento, quello che noi cercavamo era di capire la problematica che era molto forte, una problematica di aggressione ai diritti del popolo indigeno, umiliazione di questi popoli indigeni e contadini e anche inquinamento ambientale e il problema di non capire il mondo indigeno che è pienamente relazionato in senso stretto con la terra, con l'acqua, con la natura. E non si può parlare di Amazzonia senza parlare dei popoli indigeni. Non si può parlare di casa comune senza far capire che la casa comune appartiene ai popoli indigeni che sono lì. Non si può separare queste due cose. Questi sono i loro diritti, è la loro vita, è la loro realtà che c'è lì. Quindi quando vediamo che questi diritti sono colpiti si comincia a lottare insieme a loro. Faiardo sta già parlando d'avvocato, diciamo, però c'è stato un pre-Faiardo avvocato quando arriva in Amazzonia e lavora. Che lavoro faceva? Quante ore lavorava? Quanto guadagnava? Io ho lavorato in un'impresa petrolifera, ho visto, non so se si può inquadrare, questa immagine dei disastri dell'attività petrolifera e come la terra viene ferita tutti i giorni perché viene inquinata l'acqua ogni giorno. Io ho lavorato in queste imprese petrolifere che faceva questo tipo di disastri ambientali che si chiamava Chevron, prima Texaco. Io vivo in questa zona e ho lottato insieme al popolo perché tanti crimini sono stati commessi contro la nostra terra amazzonica. Guadagnava pochissimo, lavorava tante ore. Quando ha capito che bisognava fare qualcosa? Che bisognava reagire? Che bisognava dare aiuto a quelle persone che come lei lavoravano sfruttate lì? Io l'ho capito un po' di più quando ho visitato insieme ai sacerdoti di Cappuccini le varie comunità della zona amazzonica perché lì è confine con la Colombia e quando viviamo con questa comunità abbiamo visto come la gente soffriva, come le loro coltivazioni erano distrutte, la gente soffriva di tumori, le donne abortivano e quindi viviamo con loro e alcuni erano autorità, c'era il sindaco, quelli della polizia e loro dicevano dovete cercare un avvocato che vi aiuti se volete fare qualcosa. Io ho visto che non c'erano avvocati. Allora io ho detto io voglio studiare per diventare avvocato perché io voglio lavorare con la gente qui, voglio lottare con la gente qui e da lì ho cominciato con questo desiderio di studiare per questo. Qui la storia diventa una storia bellissima di unità e di sostegno. Io torno da lei un istante e le farò fare anche un piccolo passo indietro perché c'è una cosa del suo racconto che mi ha colpito, del bufalo. Per aiutare il nostro pubblico a capire di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una regione latinoamericana, di uno Stato che è l'Equador, il FOXIV naturalmente coordina il lavoro di diversi organismi su diversi territori. In Ecuador se non sbaglio è dagli anni 70 nell'aiuto alla cooperazione, alla popolazione indigene, ci descrive la situazione oggi di questo paese gravemente ferito dal disastro ambientale di cui ha iniziato a parlarci Fajardo? È un momento difficile, l'abbiamo visto dalle cronache delle ultime settimane. Per tutta l'America Latina. Per tutta l'America Latina. L'Equador ha passato delle giornate all'inizio di ottobre particolarmente dure. Ma è solamente un punto di arrivo, di un cammino che va avanti da diverso tempo. Noi con i nostri volontari, i nostri progetti conosciamo la storia, dicevo, dagli anni 70. I vari governi che si sono succeduti hanno spesso glissato su alcune questioni come questa dello sfruttamento petrolifero, dell'estrattivismo e adesso arriva il conto. Avevano nato acque, come diceva prima Pablo. Quello che sta accadendo adesso è un problema che è stato innescato, come sappiamo, da una stretta economica. Ma la stretta economica è figlia di un indebitamento che è stato fatto senza badare ai diritti di tutti. Quello che è emerso è lo squilibrio enorme che c'è tra chi da quella terra trae profitto e chi in quella terra paga il conto. E la storia dell'Ecuador incrocia quella dei paesi che è stato scritto in fiamme in questi giorni proprio per le diseguaglianze. Facardo, torno da lei, perché vorrei fare solo un piccolo passo indietro. Perché Massimiliano l'ha chiesto, lei non è nata in Amazzonia, quando è arrivato lì, lei ce l'ha raccontato con la sua famiglia. Mi può dire che cosa ha provato, la prima volta che si è trovata a contatto con le popolazioni indigene, che effetto le hanno fatto, che sentimenti, che mondo era quello? Ci fa capire, perché noi non lo conosciamo quel mondo lì. È un mondo davvero diverso dal nostro. Occorre capire che i propri indigeni hanno una propria realtà, un proprio rapporto con la terra, con la natura, che per loro sono le piante, il fiume, l'acqua e significano una cosa diversa di quello che vuol dire per noi, perché noi parliamo di risorse naturali, loro parlano di elementi di vita, quindi sono concezioni totalmente diverse che abbiamo. E ci sono due cose importanti, che noi molto spesso pensiamo che siamo più intelligenti di loro, che sappiamo più di loro, ma in realtà loro sanno molto di più della vita di quanto ne sappiamo noi, e capiscono meglio questa Amazonia, questa natura rispetto a noi, ma il nostro mondo vuole imporsi, si impone su di loro. E la cosa più grave è l'attività estrattiva, perché il problema di adesso dell'Equador, in questi ultimi giorni in Ecuador, è nato perché anche lo Stato continua ad ampliare i confini delle estrazioni petrolifere violando i diritti umani dei propri indigeni, non li consulta, continua non rispettando i loro diritti, quindi non si può parlare di Amazonia senza parlare di popoli. È stato chiarissimo, ci ha fatto proprio avvertire, sentire anche il grido di dolore di questo popolo, mi ha colpito che lei ha detto sono come un'enciclopedia, è un'enciclopedia ambulante queste persone che camminano per quanto hanno da insegnare. Lei diceva prima raccoglievo tutte le denunce, le portavo all'autorità, c'era bisogno di un avvocato, sono diventata avvocato perché mi hanno sostenuto. Chi le ha consentito? Perché io ho letto che lei ha nove fratelli, otto fratelli, aveva otto fratelli, purtroppo uno non c'è più, di diventare avvocato perché costano gli studi e costano in Ecuador moltissimo. È stato un processo collettivo, posso dire, perché una parte sono i sacerdoti cappuccini che lavoravano nel mio popolo, mi hanno aiutato economicamente per pagare una parte dei costi dell'università, un'altra parte veniva dalla gente locale, i giovani facevano collette per aiutarmi economicamente, anche i contadini, gli indigeni, mi davano il cibo ogni giorno. Quindi io ho potuto studiare, sono riuscito a laurearmi come avvocato grazie all'appoggio di tantissima gente della zona. Io non avevo soldi, i miei genitori neanche lo avevano. Quindi è stato un impegno con loro perché se loro mi hanno aiutato, io voglio anche per questo lottare con loro, insieme a loro. Una storia straordinaria, Sora Alessandra. Devo dire che i soldi dati sono stati spesi benissimo, su questo non ci sono dubbi, però è sorprendente come una comunità possa cambiare le sorti anche di una parte del mondo. Certo, questo mi faceva pensare a che cos'è un bene comune, cioè quello che sta avvenendo da questa storia è un lavoro per un bene comune, favorito da una collettività, da un bene comune e quello che mi colpisce è proprio questa insistenza, non si può capire l'Amazzonia senza capire chi la vive e senza ascoltarli. Io credo che il Sinodo ci stia dicendo questa cosa importante, che noi non possiamo sentirci superiori perché siamo tutti fratelli e abbiamo bisogno di comprendere, di guardare, di ascoltare, di capire che cosa loro possono insegnarci se sono riusciti a custodire questo patrimonio per l'umanità mentre noi siamo, noi parlo di occidentali, stiamo dimostrando che invece iniziamo a porre le basi per la distruzione. Ecco, abbiamo bisogno di fare parecchio cammino sulla consapevolezza. Paccardo ci stava raccontando dell'avvenenamento delle acque, della terra, della compagnia petrolifera Texaco Chevron, di questa causa che è iniziata, per cui lei si è battuto, questo racconto ce l'aveva iniziato a fare anche l'inviato del TG di TV2000, Massimiliano Cocchi, che vedo tra l'altro dietro le telecamere. Io vorrei chiederle come è riuscito a dimostrare il danno e anche e soprattutto a fare in modo che la popolazione spaventata non si dividesse. È stata una sfida davvero impressionante di costruzione collettiva. E bisogna capire che nel nostro caso della battaglia contro la Chevron sei popoli indigeni diversi hanno lottato e poi anche i contadini. E chiaramente ognuno con la propria cultura, con la propria lingua, ha potuto costruire un'unità in questa diversità. Questo è un grande esercizio, ma per questo, questo può venire solo quando la gente riesce a mettere da una parte gli interessi particolari e mettere soprattutto l'interesse collettivo. E questo è quello che abbiamo cercato di fare per 26 anni di battaglia cercando di ottenere giustizia. guardare le cose come il mio, ma quello che è nostro, quello che è comune, il fiume è nostro, la foresta è nostra, il pianeta è nostro. E di conseguenza cerchiamo di lottare insieme per questo bene comune che abbiamo tutti insieme. Questo suo impegno non è difficile a pensarlo, ha creato, come dire, molti malumori sopra, diciamo così, per le imprese contro le quali lei ha combattuto. La sua famiglia ha subito diverse ritorsioni, suo fratello è stato torturato e ucciso perché, peraltro, pensavano, l'hanno scambiato per lei, diciamo così. Le posso chiedere se ha mai smesso, ha mai pensato di smettere questa battaglia? No, non ho mai pensato di lasciarlo, non l'ho mai pensato perché vivo in questa zona, i miei amici sono lì, i miei figli sono lì, la mia terra è quella, la mia casa è lì. Ma se uno pensa le conseguenze che questo genera, chiedo scusa che è difficile esprimere per me tutto questo. È così. si comunica allo studio la commozione di Facardo. Alessandra, questa storia ci dice veramente fin dove può arrivare l'impegno per custodire il creato. Si paga il prezzo della vita? Pablo Facardo non riesce a dormire due notti nello stesso posto perché costantemente sotto minaccia doveva essere lui, era lui la vittima disegnata. Credo che attraverso il racconto che stiamo ascoltando io sto capendo meglio che cosa vuol dire quando si parla dei martiri dell'Amazzonia e di come le questioni lo ripetiamo ancora una volta legate al rispetto dell'ambiente e alla giustizia al rispetto dei più poveri siano tutte legate. Chiaramente questa storia come penso siano le tante altre storie dell'Amazzonia ci dicono che senza pagare un prezzo personale è difficile riuscire a fare dei passi avanti però tutto questo penso almeno in me suscita commozione ma anche rabbia perché non possiamo permettere che qualcosa che dovrebbe sembrare elementare la terra ci custodisce noi dobbiamo custodirla debba essere così difficile rispettare questo principio elementare e ci voglia sangue vite umane lotte perché si ponga questo tema all'attenzione teniamo il fiato per qualche minuto andiamo in pubblicità ma torneremo a parlare di questi temi ancora tanto di svoluzione che passiamo noi a tra poco potremmo a parlare in questa seconda parte del sinologo dell'amazzonia e dell'impegno di tutti cara Gabriella per custodire il creato e ringraziamo ancora Pablo Facardo avvocato difensore contadino difensore dei diritti delle popolazioni indigene calpestate dalle multinazionali salutiamo cogliamo l'occasione per salutare William Lusitante suo amico che arriva anche lui dall'amazzonia Gaudioso sentire questi racconti così di prima mano ci colpisce tutti ci coinvolge veramente il mondo si restringe lei è uditore al sinodo che spazio stanno ricevendo storie come quella di Pablo Facardo purtroppo non è una storia singola no questo però è l'elemento fondamentale del sinodo anche le tematiche ambientali di cui io mi interesso diciamo non riusciremo a trovare delle soluzioni vere se non faremo i conti anche con i bisogni delle popolazioni e con le difficoltà che queste popolazioni stanno affrontando e questa è la ragione per cui addirittura tra le discussioni del sinodo c'è quella della promozione di uno sviluppo economico alternativo non avremo risolto i problemi dell'amazzonia se non riusciremo a convincere i giovani dell'amazzonia a rimanere nelle terre da dove provengono perché avranno un lavoro sostenibile che gli garantisca un futuro importantissimo quello che ci dice perché vale per tutto il mondo vale per l'Africa vale per molti altri luoghi del mondo anche per l'Italia perché no da cui scappano tanti cervelli ma io torno a lei perché insomma lei ex dirigente dell'ISPRA si trova lì come uditore è veramente una grande occasione come la sta vivendo queste giornate di sinodo che emozioni che riflessioni portano cosa si porta la sera a casa? beh è una grossissima emozione appunto avere a che fare vedere gli stessi problemi al limite di cui mi sono occupato per tanti anni visto da un altro punto di vista dal punto di vista della gente io ho negoziato per una decina d'anni sui temi della deforestazione e abbiamo perso tanto tempo in discussioni in particolare con i governi della zona con il Brasile qualche risultato forse ultimamente si è riusciti anche a ottenere ma ecco se non si tiene in conto anche queste se non si considerano queste storie è difficile immaginare strumenti veri che poi abbiano una realtà e che preservino intanto l'ambiente ma anche garantiscono un futuro sostenibile alla gente che ci vive è un esplodetto importantissimo una buona parte dei lavori del sinodo sulla mazzonia sull'Alessandra è stata dedicata in questa settimana ad una riflessione sul ruolo attivo e determinante che i laici e soprattutto le donne rivestono proprio lì nel cuore nel polmone del mondo sia nella pastorale sia nelle animazioni delle comunità locali perché questa cosa ha un ruolo rilevante? è rilevante per quanto riguarda l'Amazzonia perché si comprende le regioni dell'Amazzonia perché abbiamo capito che l'Amazzonia è qualcosa di vasto e di variegato e tante cose ma in quelle regioni se non ci fossero laici se non ci fossero donne consacrate a tener vive le comunità e a livello anche pastorale non ci sarebbero comunità cristiane e quindi il sinodo sta riconoscendo l'importanza del lavoro svolto viene chiesto a gran forza ma un po' come è stato anche nel sinodo dei giovani che ho vissuto personalmente un riconoscimento del ruolo dei laici e delle donne e io credo che il fatto che questi temi tornino da un sinodo all'altro sono il segno che i tempi nella chiesa sono maturi perché non solo si rifletta ma si comincia a fare dei passi avanti perché come mi piace spesso ripetere se si guarda con un solo occhio che è quello maschile come è stato un po' fino adesso nella chiesa la chiesa non compie pienamente la sua missione è stata illuminante sora del bufalo qui oggi abbiamo portato l'ecuador ma stiamo parlando veramente di tutto il mondo abbiamo detto che cosa sta attraversando l'america latina abbiamo ascoltato l'appello per il cile di papa francesco proprio di queste ore vorrei chiederle di ricordarci l'impegno Foxiv proprio i progetti concreti su cui siete sul campo contro le diseguaglianze in ecuador in ecuador in particolare attualmente sono presenti quattro nostre associazioni che lavorano sia nei problemi della riforestazione sia con Udapt stesso insieme a Pablo per sostenere la sua lotta e anche poi nel nord ad Esmeraldas c'è un'altra nostra ONG che si chiama Ofci che occupa della disabilità e poi c'è la Foxiv che gestisce volontari in servizio civile in diversi progetti tra questi mi piace ricordare anche quello di accoglienza dei rifugiati colombiani e venezuelani che attraverso la Colombia raggiungono l'Equador quindi è un impegno che attraversa i problemi delle persone questo sì e per quanto riguarda il fatto che l'Amazonia è grande ma è il modello di altri proprio in questa settimana abbiamo incontrato dei vescovi africani che con urgenza portavano il problema del bacino del Congo che è una grande foresta africana dicono loro il secondo polmone della terra con problemi esattamente speculari a quelli dell'Amazonia quindi veramente dobbiamo trovare questo dice tutto andiamo da Simone si ho raccolto un po' di testimonianze cominciamo da Anna Maria spero che questo sinodo possa gettare le basi per creare un futuro più giusto attento all'ambiente e alle disuguaglianze Antonio secondo me non ci saranno grandi cambiamenti la politica mondiale continua a trarre profitto dalle armi e dallo sfruttamento ognuno di noi può fare qualcosa certo ma ora come ora ci vuole un cambio radicale Roberta attorno a questo sinodo si è creata una grande confusione per questo fate bene a parlarne bisognerebbe fare di più ma la qualità della vita continua a peggiorare e io non vedo un futuro roseo Luigi a mio avviso Papa Francesco sta facendo molto e sta dimostrando di avere un grande coraggio voglio ringraziare il vostro ospite in studio Pablo per averci fatto vedere il dramma che il nostro pianeta sta vivendo grazie torniamo proprio da lui in conclusione mancano pochi minuti al termine di siamo noi le posso chiedere quale sarà da oggi il suo impegno per la sua gente quello che cerciamo di fare noi è di mantenere questa lotta sempre per la difesa della vita perché noi stiamo lottando per un bene comune non per un bene particolare per un bene personale lottiamo per un bene comune eppure c'è qualcuno che dice che l'Amazzonia è un fatto privato di una sola no perdonatemi no io non sono d'accordo con questo perché se riusciamo a capire cosa significa l'Amazzonia per il pianeta avremmo fatto un grande passo in questa direzione credo che sia una sfida per tutti noi queste non sono lotte ideologiche non sono lotte geografiche sono lotte per la vita lotte per la giustizia e in questo siamo tutti coinvolti il nostro impegno è difendere quello che è nostro la casa comune i nostri popoli indigeni la casa comune del pianeta è difendere l'acqua la terra l'aria questi elementi che ci permettono di vivere con dignità e noi non pensiamo soltanto a noi stessi noi pensiamo sia alla nostra generazione e quello che dice l'Otto Tosima pensiamo a questa vita e al nostro futuro e ci impegniamo lottando ma siamo consapevoli che da soli non possiamo che abbiamo bisogno del sostegno di tutta l'umanità perché ci stanno spogliando questi e i tre sequestri ci stanno spogliando abbiamo bisogno di fare una forza comune se c'è una casa comune facciamo uno sforzo comune difendiamo tutti insieme questa casa comune tutti insieme Paolo Fagardo ha dato la parola alla sua gente suo papà mi piace dirlo diceva la carta si straccia la parola non si straccia mai insomma mi sembra che sia una testimonianza veramente calzante la sua Suora Alessandra dopo questo sinodo che cosa cambia per la Chiesa? per il futuro della Chiesa? Quello che cambierà per il futuro della Chiesa dipende da quali saranno le conclusioni del sinodo e se quelle conclusioni rimangono in quell'aula o se si comincia a camminare e questo dipende un po' da tutti dipende dal Papa dai Vescovi ma dipende da tutti noi e rispetto a quello che ho ascoltato prima come reazioni del pubblico io ho un punto che per me rimane fermo ed è questo dobbiamo denunciare lui ha detto noi non possiamo farlo da soli abbiamo bisogno di tutti ma che cosa vuol dire il nostro impegno? cioè sentiamo che ci sono stati dei morti delle persone che danno la vita e io mi chiedo noi quanta consapevolezza abbiamo nella logica del tutto e connesso che quando acquistiamo qualcosa se non ci rendiamo conto da dove viene e come viene prodotto io sono complice di quello che sta capitando in Amazzonia che quando investiamo i nostri risparmi se andiamo ad investire in fondi che finanziano quelle multinazionali noi stiamo favorendo tutto questo allora forse un impegno personale che ciascuno può prendere a partire da questo sinodo è quello di rendersi conto di quanto può essere complice grazie suora Alessandra grazie a Paolo Faiardo grazie a Bufano grazie a Bufano grazie a Bufano grazie a Bufano e a Bufano e a Bufano che è la pronuncia italiana diciamo a Paolo Faiardo noi torniamo invece domani come sempre puntuali alle 15.20 siamo noi vi aspettiamo a domani grazie a Bufano grazie a Bufano grazie a Bufano grazie a Bufano